Bella ragazzi, bentornati su FIFA Hit, sono Bada ed ecco qui il nuovo squad builder Questo qui è lo squad builder delle ridivisi da 150.000 crediti E ragazzi voglio essere onesto con voi, è una squadra molto difficile da usare, ve lo dico subito Non vi aspettate una squadra come ad esempio la serie A dello squad builder dell'altra volta Che fa un sacco di gol a partita così, ma dovrete più che altro giocare molto la palla tra tutti i giocatori pienamente Tirare in causa soprattutto il centrocampo, però comunque se volete divertirvi, avere diciamo una sfida Fatevela e vi divertirete molto Allora partiamo dal portiere, che è Teton, polacco del PSV Ragazzi 1.95 è un gigante, è fortissimo, veramente una cosa spettacolare Fa un sacco di miracoli Diciamo che non sembra che abbiamo potuto vedere un 78 o non neanche raro Ma vi assicuro che è veramente forte Il terzino sinistro è Willems, anche lui del PSV È giovanissimo, come potete vedere nel 94 80 di velocità, diciamo un terzino normalissimo, niente di che Niente di che Allora il primo difensore centrale è Marcelo È un difensore abbastanza forte, diciamo paragonabile a Lucio possiamo dire Per fare un paragone È alto 1.91, è veramente alto C'è scritto che ha 60 anni di velocità, ne dimostra un pochettino meno Ma d'altra parte segna 79 di testa, ma dimostra un po' di più Il secondo difensore ragazzi è Kalas Non so quanti di voi lo conosceranno, l'abbiamo scoperto io e Tiz insieme È del 93, anche lui molto molto giovane E come potete vedere ha 80 di velocità Ragazzi è un difensore fantastico, è veramente fantastico Fa un sacco di recuperi, anche magari verso gente più veloce di lui Segna 73 di difesa e 74 di testa, ma in realtà dimostra di più di quelle Dimostra di più, diciamo, dimostra un 80 di difesa e un 82 di testa È semplicemente un argento neanche raro Ma ragazzi è veramente incredibile come difensore Scoperta dell'anno possiamo dire Terzino destra abbiamo Van Rijn, versione upgrade Perché mi pare che ci fosse quella normale Argento non rara da 71 o 72 Anche lui, diciamo, come Willem Molto giovane, anche lui nel 91 Ma come Willem è un terzino normale Ecco, lui di buono Che c'è scritto 74 di passaggio Ma fa molti molti lanci lunghi, molto precisi Diciamo che è un buon terzino Il primo centrocampio centrale, ragazzi È Eriksen, carta nera in form 2 Perché è l'82 e c'è anche l'81 Un giocatore fantastico, ragazzi Veramente divertentissimo da usare Parto dai difetti Cioè dal difetto Perché secondo me è una solo uno Che segna 82 di velocità Ne dimostra abbastanza meno Perché è abbastanza lento Però ragazzi, d'altra parte Segna 77 di tiro Ma ne dimostra almeno 83-84 Tira delle bombe allucinanti E avendo, se non sbaglio, ha circa 90 di effetto Fa dei tiri a giro spettacolari Il secondo centrocampista centrale È Strootman, carta nera Ragazzi, questo qua è la delusione della squadra L'ho pagato quasi 23.000 crediti Non ne vale assolutamente Non mi piace per niente È lentissimo Cioè io mi aspettavo di avere, diciamo Un mini-peer, lo possiamo dire Ma assolutamente no, ragazzi Non mi piace per niente Non ha né tir L'unica cosa che sa fare è fare i lanci Non mi è piaciuto per niente E ragazzi, qua il pupillo della squadra Gini Wijnaldum Lo conoscete ormai tutti Grazie a Tiz È fantastico C'è scritto che ha 86 velocità Ne dimostra almeno 90 Ma la cosa impressionante, ragazzi È il tiro Come potete vedere C'è anche 5 stelle di piede debole Ragazzi, tira di quelle saette Veramente pazzesche Anche agire fortissimo È veramente un giocatore completo Non so perché Non l'hanno fatto neanche una volta In form O comunque Non l'hanno messo nella squadra dell'anno Delle redivisi L'ala sinistra è Mertens Che è il primo in form Perché hanno fatto anche l'82 Anche di Mertens Ma siccome volevo prendere Qualche altro giocatore Non ho preso l'82 Se avessi saputo che Strootman Mi avrebbe deluso Diciamo così tanto Certamente avrei preso Mertens in form 2 Diciamo che Allora Anche lui come Eriksen È un giocatore fantastico Perché Lui è potentissimo Non di fisico Chiaramente Perché è un metro e sessantanove Ma Non so come È veramente forte Tira fortissimo Ha delle statistiche Sulle punizioni Fantastiche ragazzi È divertentissimo Sia giocare con lui Sia tirare le punizioni Fa tutto Diciamo Se devo trovare una pecca I cross Perché Magari Prendete un'ala E gli aspettate Che faccia dei cross perfetti Magari lui vi delude un attimo Su quell'aspetto Però Con lui Prendevo palla Arrivavo in fondo Arrivavo alla bandierina E rientravo Per Magari tirare In diagonale Verso il secondo palo E faceva sempre Delle grandi azioni I 5 gol che ho fatto Li ho fatti tutti così Anzi no 2-4 così E uno di punizione Ragazzi Merita Secondo me l'82 È ancora molto più forte Merita ancora di più L'attaccante È Wilfried Boni Ragazzi Io mi sono divertito A chiamarlo Il nuovo drogba Perché È veramente fortissimo Fisicamente È allucinante C'è 85 di testa Li dimostra a tutti Se non anche di più Le prende tutte Lui di testa Tutti gli 8 gol Che ho fatto In 12 partite con lui Li ho fatti tutti di testa È veramente fortissimo Fisicamente Dimostra 84 di tiro È una cosa che mi sono accorto di lui Che più o meno è sempre così Fa il primo tiro male Il secondo Così così Il terzo È sempre bellissimo Che o fa gol O mette comunque In grandissima difficoltà Il portiere avversario Se è tanziato di velocità Non sono tantissime Ma vengono compensati Con il fisico Che magari Si fa recuperare Molto dei difensori Ma li sbatte via A spallate da quante forte E ragazzi E ragazzi Siamo arrivati al pezzo Forte della squadra Alla destra Guardate un po' Jeremy Lenz Carta blu Della squadra dell'anno La prima che han fatto Che non mi ricordo Come si chiama E ragazzi Cosa posso dire di lui È un giocatore Fantastico Pensavo Che fosse uno Di quei classici giocatori Che paghi tanto Ma non vale Così tanti crediti In realtà ragazzi Ne vale anche di più Di quelli che ho pagato Infatti Ho visto in questi giorni Che è salito addirittura 70-75 mila crediti Sempre su Xbox Perché ho l'Xbox E io l'ho pagato Come potete vedere 50 mila Diciamo che Allora A 90 di velocità E ragazzi Ogni allungo che fate Va dritto Saltando chiunque 86 di dribbling Fantastico ragazzi Fantastico Come vi dicevo prima Con Mertens Con lui facevo più o meno La stessa cosa Arrivavo alla bandierina E da lì Magari facevo Un doppio passo Magari una suolita E saltavo Ma nove volte su dieci Il difensore E poi o la mettevo in mezzo O tiravo a giro E facevo sempre gol O comunque facevo l'assist Veramente un grandissimo giocatore Vale tutti i crediti Se vogliamo trovare una pecca È il tiro Perché non è così tanto Ne dimostra un pochettino Meno di 83 Ma ragazzi Merita veramente tanto Questo school builder È finito Spero vi sia piaciuto Ho voluto mettervi un po' di carte in form Anche se diciamo che Strotman Mi ha deluso Ma possa essere molto contento Di Christian Eriksen Mertens E Lens Che veramente sono giocatori pazzeschi Spero vi sia piaciuto Ci sentiamo al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti i nostri spettatori